sacrifici sproporzionati rispetto agli altri comparti dello Stato, recito soltanto il caso del Governo stesso, i bilanci statali vengono tagliati dell'1%, i bilanci regionali si pretende che vengano tagliati del 14%. È evidente che a questo punto la manovra, che ripeto è necessaria e nella proporzione che il Governo sta dice deve essere rivista. Abbiamo già chiesto come regioni al Governo di aprire un confronto per andare a riscrivere le quantità. Stabiliamo una misura che sia uguale per tutti. Oggi vi ripeto, le regioni a statuto ordinario parano il 14%, le regioni a statuto speciale soltanto il 2%.